Cosa chiedete al Consiglio regionale? Noi non siamo soddisfatti del provvedimento licenziato dalla Giunta il 2 febbraio perché corre il rischio di essere una grande occasione persa. Noi chiediamo quindi al Consiglio regionale o di rimandare alla prossima legislatura la disciplina della materia o apportare significativi cambiamenti affinché il nostro principio ispiratore in materia, cioè stesso mercato, stesse regole sia in qualche modo recepito. Il testo unico sul turismo deve essere a nostro giudizio l'occasione per sancire il principio che l'abusivismo e la concorrenza sleale sono il nemico comune e noi sappiamo perfettamente che il turismo non è solo il pernotto negli alberghi ma tutto quello che va al di là va disciplinato perché chiunque faccia questo tipo di attività la deve fare rispettando le stesse regole perché le regole soprattutto quando sono difficili impegnative ed onerose come quelle che regolano il turismo sono rispettabili, riusciamo a rispettare se valgono per tutti perché se valgono solo per qualcuno sì e per altri no, questo non è accettabile.